C'è cante che può sparare il destro, CANTEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 3 a 1, è finita! Triplete, il sogno è realtà! Never give up, non è finita! Ci vediamo su FIFA 19 È stato un piacere essere qui Fede, chiudere la cadera con te Di bocca al lupo e tutto Ok, ci vediamo alla trassi appena A presto ragazzi Fede, pronto? Oi Bomber, come stai? Ciao Fede, quanto tempo! Io tutto bene, dai, come stai? Tutto bene? Eh dai, diciamo che in parte ho ancora addosso le tante emozioni per il finale dell'avventura con la Roma Però sono comunque carichissimo per una nuova esperienza A proposito, complimenti per la tua con la Juve Grazie, grazie Hai già scelto la nuova squadra? Ma in realtà no, adesso sto un attimo capendo cosa fare, no? Perché alla fine ho finito con quella, devo un attimo pensarci bene, poi torno, diciamo Te invece hai già scelto, ho già capito cosa fare, anche perché tra il po' è Natale, quindi se non ti muovi a decidere Eh sì, lo so, lo so che sono in ritardo, però adesso vai, non ti ci mettere pure te, che già me lo dicono tutti Comunque un'idea ce l'ho, onestamente, magari mi vuoi anche aiutare Quando ho chiuso con la Roma mi sono arrivate diverse offerte dalle big, però nulla che mi interessasse concretamente Poi lo sai, io adoro le sfide e quindi diciamo che mi intrigherebbe il tuo buon vecchio Borussia Dortmund Il Dortmund? Ma dai, partiamo già della seconda squadra della Bundesliga Vero, ma io la considero anche una squadra con grandi margini di miglioramento, oltre che a parer mio incompleta E poi mi piacerebbe tanto l'idea di cimentarmi in un nuovo campionato come la Bundes Non so, mi intriga, sarà forse per quella musichetta di sottofondo Amici sportivi, appassionati di calcio, benvenuti, questo è Dortmund, questo è il Signal Iduna Park Sono Piero Cipardo, pronto a raccontarvi questa sfida Vabbè, in pratica, non è che metteresti una buona parola col presidente? Tranquilla, tranquilla, siamo rimasti in buoni rapporti Te, non ti preoccupare, adesso gli parlo, anzi in bocca al lupo a questo punto te lo dico già Perché comunque fidati che ci metto la buona parola io Ti sono sicuro che comunque inizierai un'avventura pazzescamente incredibile Grazie a tutti